Questa mattina si parte con la quarta edizione del campionato dedicato al nostro sensei Diego Giardina, il quarto campionato Coppa Giardina, dove sono presenti sempre più numerosi, tantissimi maestri di tutta la Sicilia. Il campionato cresce ogni anno, siamo veramente contenti della presenza massiccia sia degli atleti che dei maestri che sono a corsi. Oggi praticamente qui si svolgerà una gara di kumite, Sampon, dove si vedranno al confronto tantissimi atleti. Abbiamo cercato di organizzare tutto al meglio, siamo qui con tutto il team Giardina, insieme a maestri venuti da tutta la Sicilia. Qui c'è con noi il nostro grande sensei Diego Giardina Nonodan, lo ricordiamo che lui è stato uno che ha portato il karate qui tantissimi anni fa. E se oggi siamo qua ad insegnare, a fare le nostre manzioni per la chiuscindo karate e per le arti marziali, dobbiamo dire grazie a lui. Quest'oggi in occasione della quarta edizione del campionato Coppa Diego Giardina, dedicheremo un pensiero alle vittime del terrorismo, comunque di quegli attentati che stanno insanguinando anche l'Europa. In particolare ci riferiamo a Manchester, visto che comunque la Chia Karate Giardina è gemellata con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna. Il maestro proprio vive a Bristol, quindi per noi c'è un'interazione continua con quel mondo. Ci dispiace moltissimo per quello che è successo a Manchester. Il messaggio di speranza che vogliamo lanciare è che se il karate che nasce come disciplina di guerra per uccidere, si trasforma in un evento sportivo di pace e di socializzazione, se quindi una tecnica di guerra può diventare motivo e occasione di pacifica coesistenza, tutto il mondo può cambiare, direbbero chi, vero maestro? Quindi la nostra speranza è che se veramente si vuole, se cambia, come dice anche il Papa Francesco, se cambia il cuore dell'uomo cambiano tutti i frutti che poi noi vediamo, sono frutti di morte e purtroppo quindi li assistiamo ogni giorno. Questo è il senso della nostra presenza qui oggi in un palazzo che è dedicato a Saetta e Livatino, che sono morti in attentati di mafia proprio qua da noi, quindi noi siamo molto vicini al popolo di Manchester anche perché purtroppo le abbiamo pure vissute queste cose. Una giornata dedicata allo sport, ma soprattutto una giornata dedicata ad un'arte, ad una disciplina che ovviamente ha il compito per questi meravigliosi ragazzi di abituarli a contenere la loro energia. È una delle discipline a cui sono particolarmente legata perché anche io quando ero ragazza ho fatto più di cinque anni di karate ed è un'arte perché disciplina e nello stesso tempo ha la capacità di mettere in rapporto con noi stessi, con il nostro intimo e con la nostra forza e questo è, voglio dire, un dono e soprattutto un'arte che questi maestri con grande spirito di abnegazione trasmettono a questi meravigliosi ragazzi. E lo sport, credo, e l'ho detto spesso, è una delle arti che dovrebbe essere maggiormente diffusa e soprattutto di averne cura perché abituare il proprio corpo, allenare il proprio corpo e soprattutto fare in modo che il corpo possa rispondere alla propria interiorità aiuta ad avere equilibrio e in questa società forse più che mai abbiamo bisogno di essere equilibrati. Quindi ringrazio il maestro Giardina e soprattutto ringrazio questi ragazzi, i loro genitori per rendere questa giornata ancora più colorata. Grazie.